signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefm 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno iniziamo subito con la top 10 decima posizione hermal meta dall'alba al tramonto nono posto troviamo emma con il nuovo singolo mi parli piano ottava posizione per analisa il brano bye bye settima posizione giovanotti le canzoni le canzoni non devono essere belle sesto posto per cesare cremonini il brano cashmere cashmere quinto posto pino daniele resta quel che resta numero 5 numero 4 del giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore saliamo sul podio jx and fedez italiana numero 3 seconda posizione per luca carboni una grande festa nuovo singolo tutti vogliono una grande festa un'estate tridimensionale arriviamo alla prima posizione con bunda bash featuring loredana bertè con non ti dico di no sono loro il numero uno della top 10 e questa sera non ti dico no arriviamo in cina in auto stop a chiedermi la luna tanto la conosco